Siamo tornati qua, al parco, sulla mia pamchina preferita, pamchina. E riaccoci qua, bentornati a un nuovo episodio di Dentro la mia testa, il mio podcast. Io sono Gioia Arrechini. Fa caldissimo a Milano, non mi piace, non mi piace per niente. Non riesco ad avere frequentazioni con questo caldo. Le frequentazioni estive non funzionano ed è esattamente quello di cui andremo a parlare. No, scherzo, non è questo il motivo per cui non riesco ad avere frequentazioni d'estate. Anzi, le mie uniche relazioni sono sempre state dal periodo tra maggio-giugno. Cominciavano e mi stanno arrivando le foglie addosso. Dicevo, le mie frequentazioni sono sempre cominciate a maggio-giugno e sono finite a ottobre-novembre. Con una precisione devastante, entrambe. Comunque, in entrambe c'è stata la difficoltà del vedersi. Entrambe sono state, secondo me, relazioni a distanza e non vere relazioni, nel senso che non mi sono davvero vissuto l'altra persona, se non in momenti molto distanti tra loro e molto concentrati. Cioè, che non ci si vede per un mese, poi ci si vede per cinque giorni e si vive insieme. E non era bello, ok? Però non voglio parlare delle mie relazioni, ma voglio parlare del perché, secondo me, le frequentazioni d'estate non sono così male, ok? Parliamo un po' delle frequentazioni d'estate. Tanti dicono che d'estate ci si deve divertire. Tanti dicono... Sono convinti che l'estate significa fare più esperienze con altre persone, ma secondo me non è così. Cioè, non è che se fa caldo e siamo sempre a petto nudo o comunque senza vestiti, poi magicamente ci ritroviamo a letto con le altre persone. Non funziona così. Poi fa caldo. Cioè, paradossalmente, secondo me, è anche più scomodo fare esperienze d'estate, piuttosto che in inverno. Comunque, è ovvio che magari d'estate abbiamo un po' più stimoli, perché, appunto, siamo tutti senza vestiti. E ci sono più situazioni in cui ci si può divertire, raga. Cioè, c'è anche l'alcol di mezzo, ci sono le feste, ci sono le vacanze. E io sono una persona che non ha mai fatto vacanza, cioè l'estate non faceva cose. Questa è la prima estate in cui vado un po' più in giro, anche solamente grazie ai social. Mi sono fatto giornate in cui sono andato in barca, sono andato a cavallo, sono andato in hotel fighi, ho fatto concerti. Ed è la prima volta che faccio queste cose. Di solito, nell'estate, consistevano nel prendermi il mio tempo, i miei spazi, fare le mie cose, essere molto più abiturinario rispetto all'inverno, perché magari avevo più tempo per andare in palestra. E c'è una signora con i cani. Ci sono un sacco di cani stamattina. Eh, comincia ad essere tardi, dieci e mezzo. La gente esce, mi devo fermare. No, parlerò un po' più piano adesso, non voglio farmi sentire. Quindi l'estate noi... Cioè, c'è la convinzione che siamo più liberi, ma ci sta, perché magari quando sei ancora alle superiori non hai più quella routine del dover andare a scuola ogni mattina ed essere tipo alle otto in classe. Sei un... effettivamente molto più libero, perché non devi far niente. Cioè, è estate, magari c'hai i compiti, ok? Però fino a che sei alle superiori c'è molta differenza tra estate e inverno. Invece, secondo me, quando cominci ad andare all'università, poi non hai più quella pressione durante l'inverno, durante comunque la stagione lavorativa, da settembre a giugno, non hai più quella pressione di dover essere in classe, non hai più... Magari, ok, c'è la frequenza obbligatoria, va bene, però potenzialmente puoi uscire ogni sera, ok? Infatti è una roba che, secondo me, sempre... Ci tengo a dire, tante volte, secondo me, lo ripeto, perché sono tutte mie idee e ci tengo a sottolinearlo, perché mi dà fastidio quando le persone danno per vero convinzioni proprie, per vere oggettive, non è così. Se sei un universitario, vedo tanti che si... Vedo tanti universitari che si perdono per questa roba, perché possono fare quello che vogliono, possono uscire ogni sera e quindi ogni situazione sociale per conoscere persone diventa un motivo per fare tardi, ok? Quindi, quando sei un universitario, secondo me, non cambia troppo. E anzi, sei più libero. Cioè, magari non hai la casa da solo a Milano, però magari hai la camera da solo, ok? Almeno quella. Quindi hai i tuoi spazi. Se invece sei alle superiori, vivi ancora con i tuoi genitori. Anche lì è un po' più difficile, quindi ovvio che poi... È come quando un ragazzo viene troppo controllato dai genitori. Nel momento in cui può sgarrare, sentirsi libero, lo fa all'estremo. Quindi per quello tipo i ragazzi che vengono controllati, hanno i genitori pesanti, così, poi alla fine si ritrovano per essere i primi che fanno le cose che non dovrebbero. Come ad esempio, che ne so, se i tuoi genitori ti controllano gli account, vogliono che segui solo certe persone, non si fidano di te, probabilmente tu avrai un secondo account dove fai quello che vuoi, ok? Riesci a raggirare le cose. Ma perché siamo fatti così? Cioè, ci sta. Mi dà fastidio anzi che i genitori non capiscono questa roba. Io sono stato molto fortunato, ringrazio i miei genitori, lo faccio spesso, ma ci tengo a sottolinearlo che i miei genitori mi hanno cresciuto, secondo me, in un ambiente molto libero. Potevo fare quello che volevo. Cioè, addirittura ero così sincero ed ero così libero che... Quando sono stato messo in punizione non potevo più usare il DS, perché sono cresciuto nella generazione che giocava il DS, l'avevo messo via. Cioè, mia mamma mi ha detto non puoi giocare. Cioè, mi ha proprio detto ti metto in punizione e non puoi giocare. E non me l'aveva nascosto in giro perché non si fidava che io non ci giocassi. Semplicemente io l'avevo messo sotto il cuscino e non ci avrei giocato. Invece di giocarci di nascosto, una sera mi dovevo tipo vedere come si chiamava un personaggio di Super Mario, una roba del genere. Invece di farlo di nascosto ho chiesto espressamente a mia mamma. Mamma, so che sono in punizione, ma posso andare un attimo ad accendere il DS? Tre minuti e torno giù? Devo solo vedere una cosa. Lei mi fa, ok, ok, non giocarci, va bene. E non l'ho fatto. Ma perché mi hanno cresciuto in un ambiente in cui sono libero. Se sei libero, ma con le spalle coperte, ovviamente, sai che c'è il tuo rifugio, che sono i tuoi genitori, ma comunque sei libero di scoprire il mondo. E se non sei libero di farlo, lo farai in modo tossico, in modo... Ok. Quindi questa cosa, secondo me, si rifà anche alle frequentazioni estive. Cioè, se tu, durante l'anno, alle superiori, non hai mai momenti per incontrare nuove persone e fare nuove esperienze, capitemi quando dico nuove esperienze, è ovvio che d'estate, poi, se hai la casa al mare, se ogni sera sei libero, eccetera, te la vivi tanto bene. Adesso, per me, la normalità è essere, boh, libero a casa, o comunque avere la possibilità di fare esperienze. Quindi non è tanto quello. Secondo me le frequentazioni estive... Che poi io vorrei un po' sdoganare questa cosa delle relazioni estive che non funzionano, che ci mettiamo subito una pietra sopra, perché no, è giugno, luglio, quello che è. Raga, se la scusa per non sentirvi più te e la persona con cui vi state frequentando è che è estate, vuol dire che non siete fatti l'uno per l'altro. Ma ci sta. Perché? Perché non vuol dire niente. Cioè, se vuoi veramente una persona, perché quella persona ti dà tutto quello di cui hai bisogno, eccetera, eccetera, l'estate è meglio. Cioè, magari vi raccontate quello che fate. Non siamo obbligati a volere sempre la cosa nuova, a volere sempre la cosa in più, a volere l'uscita occasionale, a voler l'esperienza di divertimento. Ci sta voler approfondire con una persona. Non ti stai perdendo un'estate. Io non mi pento di aver fatto le mie relazioni, di aver avuto le mie relazioni durante l'estate. Perché secondo me nella vita devi scegliere i tuoi rimpianti e rimorsi. Devi scegliere le cose di cui ti penti di aver fatto e le cose di cui ti penti di non aver avuto la possibilità di fare. E non potrai mai far tutto. Ci saranno sempre delle scelte che dovrai prendere. E quindi è inutile stare a pensare alle cose che non hai ottenuto, avendo una relazione d'estate. Non hai avuto tutte quelle esperienze, però hai avuto una relazione. Cioè, devi vedere la cosa bella, devi vedere tutti i bei momenti, devi ricordarti tutte le belle cose che sono successe e tutti i bei cambiamenti che sono avvenuti in te. Che poi appunto, avendo avuto queste relazioni d'estate, una volta che finivano a novembre puntualmente, fino a ottobre, un po' dopo il mio compleanno, che vi ricordo essere il 9 ottobre, quindi il 9 ottobre fatemi gli auguri, alla fine mi sono sempre divertito. Cioè, mi sono sempre lasciato andare, oddio dove stanno dire. Wow. Bello. Mi sta passando un raffreddore. Dicevo, dopo le relazioni, essendo finita sempre d'inverno, mi sono sempre comunque divertito. perché, avendo la possibilità di farlo, come dicevo, non c'è più differenza tra estate e inverno. Poi io capisco, quello che si dice che d'estate, appunto, magari vai al mare. C'è un'atmosfera proprio più caliente, più di divertimento, ok? L'estate io la collego molto facilmente al caldo, la musica, situazioni sociali. Invece l'inverno magari lo ricolleghi al lavoro, routine, ordine, regole. C'è uno molto rosco che si è messo dietro un albero. Sembrava stesse per abbassarsi i pantaloni. Come se fosse un bagno pubblico. Ma non capisco cosa stia facendo. C'è gente strana a Milano. Ci sta. Mi piacerebbe andare a registrare, tipo, in Parco Sempione, con gente. Sarebbe molto figo. Lo farò. Comunque, quindi dicevo, se la frequentazione non sta andando, di certo non è perché è estate. Poi, posso anche capire che non sia il momento giusto. Perché magari una persona parte per tanto e questa cosa la posso capire. Ecco, questa tipo, sì. Cioè, io, adesso, oggi, oggi, non comincerei una frequentazione, perché so che devo partire, perché so che voglio stare tranquillo e non voglio avere i pensieri. Non perché io voglia fare esperienze con altre persone, ma perché proprio non voglio avere qualcuno a cui dare la buonanotte, il buongiorno per forza. Non voglio sentirmi controllato. Voglio essere libero. Ed è una cosa che mi manca d'estate, perché appunto non ho mai fatto un'estate da solo. Però allo stesso tempo, boh, già capisco perché possa piacere il... avere qualcuno proprio fianco. Non dobbiamo, però, confondere questa cosa con l'amore e l'interesse verso una persona. Che carino il cane! C'era un signore con delle scarpe con cui io ho collaborato, un brand con cui ho collaborato un sacco di volte e è figo vederle in giro. Cioè, con le scarpe le ho indossate io. Faccio parte del perché lui le ha acquistate. Comunque, quindi dicevo, prima di distrarmi, ci possono assolutamente essere momenti in cui magari una persona parte per tre settimane e non ha voglia di stare col pensiero dell'altra persona che è dall'altra parte del globo e non ci si vede e così. E questa cosa la capisco perché una relazione ha bisogno di vedersi. Una relazione non può cominciare a distanza. Cioè, non è tempo passato insieme quello che passi a scriverti su WhatsApp, a far chiamate e a sentire solo virtualmente l'altra persona. La senti vicina, ma non è vicina. Quindi cominciare, ecco, cominciare le cose in piena estate se poi non ci si riesce a vedere. Quello posso capire che possa essere un ostacolo veramente grosso alla frequentazione e posso capire perché una persona possa interrompere. Io stesso ho fatto questa cosa e ho detto guarda, ho avuto questo discorso dove ho detto guarda, so che a settembre ci rivedremo. Non voglio cominciare nulla, però voglio che tu sappia che potrebbe esserci qualcosa tra noi e a settembre mi piacerebbe capire se... cioè, mi piacerebbe approfondire, mi piacerebbe conoscerti meglio, mi piacerebbe che uscissimo di più, che legassimo di più per vedere dove può andare questo rapporto. Però ho messo le mani avanti, ho detto so che non ci vedremo per mesi, è inutile cominciare qua adesso, è inutile cominciare a scriversi, come per stare insieme, no, calma. Questo lo posso capire, questo ve lo concedo, questo assolutamente. Però è anche vero che anche d'inverno poi c'hai sempre la vacanza e c'hai... soprattutto in Italia, qua facciamo vacanza per qualsiasi roba, c'è il Natale, c'è il Natale, Capodanno, ciao, c'è un periodo in cui ciao. Poi c'è San Valentino, quindi cosa fai? Carnevale, Pasqua, c'è Pasqua, dopo Pasqua siamo ad Aprile, praticamente siamo già d'estate e quindi tu dici Aprile, Maggio, eccetera. Quindi non è mai un momento buono se vogliamo ragionare sotto questo punto di vista. Quindi veramente, secondo me, ci stiamo soffermando troppo su robe superficiali. Se una roba deve essere, sarà. E nel senso, se entrambe le persone avranno voglia di metterci l'impegno, ce lo metteranno. Se è solo una persona che ci mette l'impegno e se sei tu quella persona, notalo e cerca di capire se ne vale davvero la pena. Perché anch'io ci sono passato in momenti in cui ci mettevo solo io le energie, le forze e non vedevo l'impegno dall'altra parte perché c'era la certezza che io c'ero, ok? Renditi un po' più esclusivo o esclusiva, secondo me, se sei in quella situazione. Renditi, fai valere di più la tua presenza, non esserci sempre per forza. Ma non apposta, cioè non tipo che aspetto un po' di ore e poi le rispondo e metti alla fine quella persona come priorità. No, devi mettere te come priorità. Quindi se vuoi rispondere le rispondi, se no, però sappi che l'esclusività ripaga. Cioè devi darti valore. È quello, non screditare. Ecco, non lo sto dicendo in modo tossico, non devi fare queste cose in modo tossico. Secondo me bisogna sempre prendere tutto con onestà e sincerità verso se stessi, verso il mondo e verso gli altri. Quindi se ho voglia di risponderti subito lo faccio ma mi rendo conto che se lo faccio in modo costante ogni volta che mi scrivi eccetera io posso capire perché tu pensi che io non faccia niente durante il giorno, che io viva per te. Ok, questo pensiero è logico e normale all'inizio di una frequentazione. Poi è ovvio che se sei in una relazione che sta andando avanti ci sta essere presente, ci sta avere quel rapporto di tanto ormai sei mio e sono tua, sei mia e non ho paura che scappi. Cioè non ho paura di essere pesante e so che se sono pesante me lo dici. Ok, come quando hai un amico che conosci da tanto tempo e non hai paura di scrivergli tanto e non hai neanche paura che lui ti dica oh, mi stai rompendo le palle. Per quello dico di costruire qualcosa di sincero, di puro e di profondo perché così c'è anche questo tipo di confidenza. Io vi invito a seguirmi e iscrivervi. Lo faccio adesso così in mezzo all'episodio a vedere anche gli episodi precedenti se questo vi è piaciuto. Ah, perché comincerà questo è il mio progetto dentro la mia testa nel podcast in cui parlo un po' dei miei pensieri e delle mie cose e lo sto facendo tutto da solo quindi grazie se mi supportate. Bene, io ho parlato per 20 minuti comunque le frequentazioni d'estate che cosa volete sapere ancora delle frequentazioni d'estate raga? Io a questo mi sono segnato cioè che cavolo se è d'estate inverno non cambia tanto fatelo cioè sperimentate fate raga non sentitevi in dovere di farvi andare bene qualcosa che non vi piace cioè se vi piace una persona volete frequentarla d'estate sappiate che potreste perdervi delle esperienze che solo d'estate succedono quindi magari sei al mare magari sei capito sei in vacanza ma allo stesso tempo sii contento e grato che stai conoscendo una persona se veramente quella persona pensi che ne valga la pena prenditi la tua responsabilità e conosci la ok quindi boh pensavo di fare lo spezzone pubblicitario il mio podcast in mezzo all'episodio ma alla fine questo episodio verrà un po' più corto perché non c'è volto da dire cioè ah oddio oddio i tradimenti oh madonna tradimenti l'anno scorso avevo fatto un video una delle poche interviste che ho fatto uno dei pochi video interviste che ho fatto ed era su le frequentazioni d'estate funzionano? capiamo era una roba del genere mi pare sia anche pinnato cioè sia fissato sul profilo tiktok se andate a vedere c'è o l'ho tolto no forse l'ho tolto non c'è più comunque una delle cose che mi dicevano era che tipo d'estate c'è il tradimento ok perché appunto si hanno più occasioni si ha più occasioni per tradire perché adesso le relazioni d'oggi non ci si può più fidare eccetera però allo stesso tempo mi hanno risposto anche dei ragazzi e delle ragazze molto giovani magari farò un episodio tutto sul tradimento ok ma cosa vuoi parlare fa schifo il tradimento no dai ce n'è un po' da dire non lo so avere anche paura del tradimento significa che non conosci davvero l'altra persona non lo so e avere la paura costante che una persona ti possa tradire sei tu il problema già cioè mi spiego se io sto con una persona e ho la costante paura il costante pensiero che possa scegliere qualcun altro invece di me cavoli suoi non è non è un mio problema se non riuscite ad avere questa consapevolezza e questo questo pensiero verso voi stessi è perché magari non credete abbastanza in voi stessi e secondo me dovreste cioè è giusto pensare che è una perdita dell'altra persona se decide di fare una cazzata se voi ovviamente siete sinceri e leali con voi stessi e con l'altra persona quindi se voi date tutto voi stessi se siete fedeli siete leali eccetera è l'altra persona che ci perde se anche voi fate giochetti e se si crea questo ping pong di comportamenti sbagliati state sbagliando entrambi cioè anche tu sei un po' una persona brutta quindi fatevi anche un esame di coscienza ecco no perché dico questa cosa anche perché sono un grande promotore del di questo mindset di questo modo di pensare ossia del io voglio essere il partner migliore che augurerei alla mia partner migliore non so come dirla dico ogni volta in un modo diverso però se io penso a una ragazza e al prototipo a quello che penso che mi possa piacere in una ragazza e quello che penso di aver capito che mi piace in una ragazza so anche quale vorrei che fosse il suo tipo ideale e quindi io in quanto maschio etrocis no scherzo però io in quanto joele voglio essere il ragazzo migliore che posso augurare la mia ragazza ok quindi voglio essere il top però se io ho la consapevolezza e la certezza di essere il top è ovvio che se una persona si comporta male con me penso che sia sua la perdita ok per quanto poi è vero che ogni tanto io possa incappare nella trappola di idealizzare l'altra persona e di vederla per quello che non è però allo stesso tempo poi quando comincio a ragionare in modo più razionale dico ok si ci ha perso lei perché io valgo tanto e so quello che posso offrire all'altra persona quindi boh d'estate o d'inverno secondo me non cambia tanto se volete conoscere una persona fatelo se sarà sarà se vuole scrivervi vi scriverà se andare in viaggio in Uganda per un mese difficile conoscerla aspettate che siate tutti tranquilli potenzialmente nella stessa città però capisco che con internet le relazioni comincino anche a distanza che non so quanto possa funzionare cominciare una relazione a distanza ma di quello magari ne parliamo in un altro video grazie per essere arrivati fino qui vi ringrazio davvero se volete supportare questo progetto iscrivetevi su youtube o seguitemi su spotify in base a dove mi state ascoltando vi ringrazio davvero se siete arrivati fino qua ci punto tanto quest'anno sarà un nuovo anno un nuova stagione nuove cose e basta andate a vedere gli episodi precedenti se non li avete ancora visti o sentiti e ogni lunedì ne esce uno nuovo devo farmi una scaletta di cose da dire ogni volta perché sennò mi dimentico vabbè ciao